Cagnacci, sono qui che aspetto di vedere Italia-Francia di basket alle Olimpiadi e dopo aver letto tutti i commenti di Instagram, quelli della pagina Facebook e soprattutto tutta la discussione dentro il nostro gruppo Facebook One Piece, il manga per davvero, cercatelo su Facebook ed entrate penso di dover mettere un punto, serio, sulla questione dell'ultimo capitolo, 1020, di One Piece Cos'è che mi ha fatto tanto arrabbiare? Diciamo che le cose che mi hanno fatto arrabbiare sono principalmente tre La prima è stata vedere in giro per il web italiano nelle pagine della comunità italiana di One Piece degli spoiler che quando sono arrivati a trattare la questione del dialogo di Robin sulle ali del re dei pirati hanno aggiunto una delle ali è Sanji l'altra è Zoro Zoro non viene nominato nel capitolo quindi mi sono chiesto ma perché negli spoiler che dovrebbero semplicemente riportare quello che avviene nel capitolo ci sono delle considerazioni personali? Quando ho visto questa cosa qui dopo è successa un'altra cosa sono arrivati diciamo così le traduzioni del capitolo da parte delle traduzioni amatoriali dall'Inghilterra che mettevano nella traduzione una delle ali del re dei pirati Sanji è una delle ali del re dei pirati il che mi è sembrato una traduzione strana sono usciti poi però degli screenshot di questi amatori inglesi dove rispondevano un utente che gli chiedeva di correggere questa traduzione e loro dicevano ma noi non possiamo correggere noi dobbiamo mettere la traduzione che piace di più alla community no tu devi mettere la traduzione che c'è nel manga non è che si legge il manga dei traduttori amatoriali si legge il manga di Chiruota questa è una cosa che mi ha fatto arrabbiare dopodiché è successo un altro evento che in Italia hanno iniziato a dire aspettiamo le traduzioni ufficiali di Manga Plus di Manga Plus però nel frattempo tiravano fuori le loro considerazioni sulla traduzione nel nostro gruppo Facebook One Piece il Manga per davvero è entrata Mayumi chi è Mayumi? Mayumi è una madrelingua giapponese che vive in Italia che si è occupata di traduzioni di manga qui in Italia e le abbiamo chiesto dentro il gruppo Mayumi ci puoi spiegare come si legge come si traduce questo dialogo e lei ha risposto questo dialogo è inequivocabile per un giapponese perché dice riferendosi a Sanji lui sì che colui è il più adatto a essere definito leali entrambe leali del re dei pirati perché si è creata gira questa fake news questa prostituzione intellettuale che afferma che il dialogo si riferisca a Zoro e Sanji perché chi vuole fare l'adattatore in modo amatoriale ha scelto arbitrariamente di tradurre la parola giapponese entrambe leali in una delle ali a seguito di una SBS SBS lo sappiamo tutti sono delle considerazioni dei pensieri spesso divertenti dell'autore che si trovano solo nel Tankabon non sulla rivista Shonen Jump e che spesso rilascia informazioni e risposte dell'autore Ciro Oda delle domande degli utenti queste SBS nel corso del tempo non solo si sono dimostrate poco credibili perché tante cose sono state smentite dal manga ma alcune volte ci sono state delle informazioni che si sono contraddette tra di loro le SBS non sono da prendere minimamente in considerazione del manga questo sia perché il manga è palese che crei un mondo a se stante coerentissimo dove non ci sono sortite dell'autore all'interno di questo manga quindi non c'è neanche un po' di metanarrazione quindi non possono essere considerate ma soprattutto cosa più importante seppur c'è qualcuno che le voglia considerare perché non ha capito cos'è One Piece come funziona la narrazione di One Piece mi chiedo ma quelle SBS che si riferivano a San Gizzoro come le due ali del re dei pirati facevano parte dell'SBS del capitolo del volume 73 di quanti anni fa parliamo 23 volumi fa ora non so fare i conti facciamo 10 anni fa ma come si fa a utilizzare per l'adattamento di un dialogo un pensiero nell'SBS di un autore di 10 anni fa io questo l'ho trovato assurdo fin dal principio ma voglio aggiungere un altro elemento nel caso sfuggisse più facciamo finta che l'autore non abbia cambio di idea cioè che per l'autore San Gizzoro sono le due ali del re dei pirati sappiamo che questa è una considerazione quindi importante per l'autore cioè che le ali sarebbero proprio il supporto coloro che i pilastri e probabilmente forse potrebbe anche succedere che per l'autore Ciroda questo non sia cambiato cioè che San Gizzoro siano le ali del re dei pirati forse addirittura ora c'è Cimbe per l'autore che magari 10 anni fa non aveva considerato però io voglio stare dalla parte di chi considera l'SBS nonostante nell'SBS Oda abbia detto che voi dovete considerare solo il manga che quello che c'è nell'SBS a voi non deve importare l'ho detto Oda nell'SBS cioè voi non potete considerare una SBS sì perché torna utile alle vostre considerazioni alla vostra al vostro pregiudizio e quella che invece non vi piace non la considerate e Oda nell'SBS del volume 60 e qualcosa dice chiaramente questo l'abbiamo messo nel gruppo al Facebook non dovete considerarlo però io voglio essere totalmente alla vostra parte e vi dico benissimo Oda pensava questo e forse lo pensa ancora ma non è il pensiero di Nico Robin per Nico Robin non per Oda possono pensarla diversamente per Nico Robin Sanji lui sì questo è il dialogo lui sì che deve essere che può essere considerato le ali del re dei pirati e probabilmente lo pensa anche Brooke perché non ha non ha non ha contraddetto Nico Robin quindi io mi sono chiesto perché allora lottare aggrapparsi aggrapparsi ad ogni piccolo cavillo per fare una interpretazione assurda ma se domani faccio un esempio se dopo domani nel prossimo capitolo Oda dicesse facesse dire a un personaggio Zoro può essere considerato le braccia del re dei pirati oppure Nami la testa del re dei pirati e finisce il manga e non si vede la seconda ala cioè nessuno dice quell'altra è la seconda ala ma cosa può succedere cioè che noi non sapremo mai qual è la seconda ala no perché il dialogo è chiaro sono entrambe le ali dei re dei pirati facciamo finta che domani Chopper dica Zoro è un altro che può essere considerato le ali del re dei pirati o ve lo dica Brooke Brooke si connetterebbe al discorso di Nico Robin ma il pensiero di Nico Robin rimarrebbe che quelle sono Sanji e da considerare entrambi le ali dei re dei pirati e la gente ha detto sapete a cosa si è attaccato dopo che c'è la traduzione di Manga Plus ufficiale che per me era irrilevante perché conta ovviamente quello giapponese che le persone non soddisfatte del fatto che Manga Plus in inglese avesse tradotto come più opportuno tradurre si sono attaccati per la prima volta nella storia la versione inglese ma se non è importante questa cosa qui tutti hanno ribadito nella comunità italiana non è importante si scatena il tifo su questa cosa eccetera allora come mai ne parlate tutti come mai vi sbattete così tanto a cercare il cavillo l'interpretazione ad affidarsi come se fosse la legge alle parole di un anonimo spoiler man chiamato Sandman a cui gli si dà infinita credibilità quando lui per giustificare questa traduzione di una sola ala ha detto non ho mai visto nella mia vita questo termine entrambe le ali legate a una sola persona ma ditemi ma quante volte gli può essere capitato di vedere il termine ali affibbiato alle persone mai io dico quindi lo vedeva per la prima volta insomma ci sono state tante cose che hanno dimostrato secondo me il voler cambiare le cose in base al proprio punto di vista quando in realtà chi fa parte della community di One Piece dovrebbe cercare di salvaguardare il più possibile il pensiero dell'autore e tutte quelle il reverendo ho visto tutto il reverendo Back and Raft One Piece ma siamo esperti tutti che si sono sbattuti come i matti per mettere negli spoiler la presenza di Zoro nel cercare la traduzione di quel pezzo di commentarlo eccetera poi quando è successo il casino perché noi dal gruppo Facebook One Piece il manga per davvero li abbiamo sgamati con prove traduttori professionisti ragionamenti perfetti ovviamente c'è stato un pubblico che ha detto scusate ma che cazzo avete combinato stavolta gente che comunque è preparatissima bravissima la maggior parte delle volte il 99,9% delle volte è puntualissima a fare sta cosa e ci sta che la community si arrabbi non che offenda ma che si arrabbi perché la community può pensare ma come noi non possiamo lamentarci di una cosa che abbiamo capito essere sbagliata e se sta cosa non è importante perché sbattersi così tanto e l'altra cosa che mi ha fatto arrabbiare è stata ecco qua i tifosi Sanji vs. Zoro forse vi sfugge che One Piece voi potete ognuno per se stesso può trasformarlo in quello che vuole la può trasformare nella Bibbia nell'opera di letteratura più importante della Terra nel viatico più opportuno per fare divulgazione culturale ognuno sceglie cos'è One Piece c'è una parte di community che rappresento io perché sono in primo piano sul canale che vede One Piece come un battle shonen manga un manga di intrattenimento e avventura di botte dove il manga è fatto per intrattenerti e farti divertire e nei suoi vari strati liar come si può dire l'autore ha inserito lui non io non noi che ci divertiamo con questa cosa il dissing Zoro Sanji perché questo questa attenzione al manga su questa prospettiva fa arrabbiare tutti perché tutti la maggior parte si concentrano su il pattern sulla mitologia eccetera e noi lo prendiamo proprio nel modo più superficiale possibile però attenzione il manga di One Piece è superficiale io ho avesso a volte delle considerazioni di un'ora sul che condanna le droghe sulle cose guardate che il fatto che sia presente un tema non vuol dire che quel tema sia trattato non vuol dire che quel tema sia approfondito lo vuoi approfondire tu è una tua prospettiva ma lo puoi fare con mille altre cose scegli di farlo con One Piece è benissimo ma il fatto che ci sia un uomo pesce che prende le droghe per essere più forte e poi viene deteriorato da queste stesse droghe non è la trattazione delle droghe forse le persone non sopportano chi non si adegua alla sovralettura di One Piece noi prendiamo invece un punto di vista San Ziggioro che permette di stare sempre attenti alla lettura di recuperarla andarla indietro perché tu ti riverdi le saghe per poter argomentare il tuo punto di vista eccetera e alla fine gli eventi sono molto chiari e che cosa si è trasformato nel tempo Zorro vs Sanji in chi sa leggere il manga e legge il manga non l'anime non sfoglia gli spoiler chi lo sa leggere e chi non lo sa leggere perché dietro chi il sagismo c'è il capire il tipo di narrazione che fa One Piece lo stile di One Piece il cogliere le sfumature perché One Piece non ha approfondimento psicologico a caratterizzazione psicologica quindi tu per poter capire bene come evolvono i rapporti umani e l'interiorità dei personaggi devi cogliere le sfumature e il Zorro vs Sanji ti permette questa lettura approfondita del manga quando la lettura più superficiale la fanno proprio quelli che lo elevano perché? perché si concentrano sull'abuso di droghe il pattern l'animale mitologico cioè ragazzi per 14 giorni abbiamo visto discutere di quale tipo di frutto mitologico avesse Yamato e la cosa più inutile e superficiale di tutto quello che sta accadendo a Onigashima su in One Piece il più puntuale come sempre devo dire è stato Somobuta che ha saputo cogliere come faremo senza la prospettiva Zorro Sanji come faremmo noi Zorro Sanji quello di cui si sta occupando in questo momento la saga di Wano cioè uno scontro tra un pirata che ha perso la fiducia che non dà mai fiducia usa solo violenza per vincere essere al vertice e Rufy che riesce a convogliare su di sé fiducia e quando ci dicono che il capitolo dice ben altro è vero il problema sapete qual è è che vi è servito questo capitolo per capire cosa voglia significare il dialogo di Nico Robin quando è successo che Sanji ha pianto e ha chiamato Nico Robin fatevi un esame di coscienza andate a rivedere quello che scrivevate figuraccia di Sanji patetico Oda l'ha umiliato questo scrivevate eh la maggior parte di utenti scriveva questo allora io feci una live dove cercavo di spiegare perché non era una figuraccia ma perché quel dialogo quell'evento se legge attentamente il manga rappresentasse un'importante sfumatura che faceva notare quanto che cambiamento avesse fatto Sanji e perché Sanji che mette in pericolo un altro suo compagno addirittura donna addirittura Nico Robin come è possibile avete attenzione e questa è una cosa importantissima Sanji questo non l'avrebbe mai fatto allora perché oggi l'ha fatto Sanji l'ha fatto e siamo andati a recuperare tutta la saga di Totland dove capiamo tutti i traumi della sua infanzia del perché lui ha un senso di colpa nella perdita della madre e vediamo Sanji in alcuni momenti di riflessione a Totland quando capisce che i suoi compagni non abbandoneranno nonostante lui abbia cercato di ingannarli dicendo tornerò dice capisce che fa soffrire le persone molto di più questo suo prendersi sulle spalle tutte le responsabilità piuttosto che coinvolgere chi di aiuto e forse si immedesima anche nella parte di Nico Robin è come se lui capisse il senso di Nico Robin della riconoscenza che ha per quella volta che la salvarono quindi chiamandola a Onigashima si vede tutto il cambiamento di Sanji che ammira sempre le donne le vuole sempre proteggere ma si fida anche di loro e della loro forza lo ha visto la madre è stata forte la sorella è stata forte Big Bam è stata forte Schiffone è stata forte e voi dite il capitolo parla d'altro ma come mai nessuno è andato a riprendere queste cose importanti del rapporto di Nico Robin che è un personaggio che è cresciuto tantissimo anche lei l'unico personaggio che purtroppo cresce sempre poco non cresce Zoro se non in forza ora pare abbia dimostrato l'Achi del Reconquistatore io ho sempre detto è importantissimo cioè sono 5 anni che dico secondo me è importantissimo che Oda dia l'Achi del Reconquistatore a Zoro perché è un personaggio che lui non ha curato dal punto di vista di crescita psicologica e dei rapporti deve l'unico modo che ha questo personaggio molto da combattimento molto personaggio che attrae soprattutto i giovani quelli che gli piace più le botte l'unico modo che ha di dargli spessore è l'Achi del Reconquistatore quindi io me lo aspetto che lo abbia una cosa che scrivo da 5-6 anni e ora però un membro della Churma non esterno non Uroke non Bartolomeo non Queen non Black Maria dice Sanji lui sì che può essere considerato leali del Re dei Pirati secondo Nico Robin è questo una prospettiva interna alla Churma che eleva Sanji non a vice capitano a qualcosa di ancora di più cioè gli stai dicendo tu sei l'anima del Re dei Pirati colui che vuole essere più libero del mondo ha bisogno delle ali le ali che cosa sono? se tu vuoi essere il pirata l'uomo più libero del mondo devi avere poche responsabilità Sanji è colui che si prende molte delle responsabilità che dovrebbe avere il capitano quando non c'è quando porta tutti su zoo quando prende le scelte quando li salvaguardi dal rapimento della Churma di Capone che beghe lui è sempre quello che va a salvare tutti quanti che li libera quando cadono nelle trappole che ha sempre un secondo piano che li tira fuori dai guai e non è un caso che gli unici commenti positivi espliciti tra personaggi siano sempre rivolte a Sanji Rufi lo chiama se è il genio se è un genio abbiamo un genio in Churma dice quando Aynes Lobby li salva tutti quanti mandando in rotta le navi della marina sull'isola di Totran dice io senza di te non potrò diventare il re dei pirati io senza di te non potrò essere il più libero del mondo perché ho bisogno di chi si prenda alcune delle responsabilità che mi devono rendere più libero averle non mi renderebbe così libero lui infatti non vuole la flotta ve lo ricordate che quelli si dicono noi siamo sulle date a prescindere lui non non vuole cazzi Sanji è colui che si può prendere quei cazzi secondo Nico Robin domani potrebbe uscire no? che Zoro è il le braccia del re dei pirati il muratore il pestrellista il guerriero fate come vi pare e ci sarebbe perché Zoro in Churma non si prende mai delle responsabilità Zoro persegue il suo fine di diventare il più forte e spadaccino del mondo lui preferisce non stare sotto il tetto di Onigashima a gestire la guerra salvaguardare i compagni i guerrieri e i monosuke lui preferisce andare da Kaido confrontarsi per diventare più forte sono due personaggi molto diversi quindi non dico che questo dialogo dica che Sanji è il vice capitano come sempre noi Sanjisti diciamo che è il più adatto a essere considerato il vice capitano ma che lo è lo dovrà nominare leali è qualcosa di più leali è l'anima stessa del re dei pirati quindi ragazzi mi dispiace se non avete capito voi il manga se voi parlate del frutto di Yamato e dell'abuso di droghe noi Sanji vs Zoro gli scemi della community di One Piece quelli che non capiscono niente sappiamo leggere 100 volte meglio di voi interpretiamo molto meglio di voi è una prova oltre lo scherzo è ovvio che ciascuno di voi abbia indovinato qualche teoria sparandone milioni io ne ho sparate 15 16 ad oggi ne ho prese 14 e 2 vedremo se si realizzeranno una è che Ivankov arriverà sull'isola e l'altra è che quella figura misteriosa che cura i foderi non fosse Iori ma fosse Toki vediamo posso sbagliare ma io non è che faccio 10.000 teorie ne faccio alcune ma pesanti non quello avrà il frutto così quello avrà il frutto cosa quindi non vi arrabbiate per noi è sempre un divertimento però da parte vostra più onessa intellettuale grazie grazie grazie